Si mette in moto la macchina che ha chiamato e raccolto i cavalli partecipanti al sottoclou del pomeriggio categoria B sui 1640 metri. Sono in 8 al via, 1 Rino Rock, 2 Matisse Pons, 3 Lepo Risteri, 4 Nando Fonte, 5 Paolo M, 6 Rodeni Ronco, 7 Palomitas. Solitari in seconda fine è il numero 8 italiano. Faticano i numeri alti dello schieramento. Allo stacco prova ad emergere il numero 5 di Paolo M che incontra l'opposizione interna di Nando Font, un partito molto più sollecito del solito. Nando Scavalca, Lepo Risteri, adesso è il leader. Per gli esterni è rimasta anche Palomitas che prova a sfruttare la schiena di Paolo M che si deve rassegnare a correre all'esterno. Adesso in terza Pariglia italiano che muove subito 28,4 il primo quarto per Nando Font. Vedremo come interpreterà la corsa Lucio Becchetti. Punta dritto in terza ruota italiano e va subito a pungolare Nando Font che già di suo andrebbe. Vengono fuori 600 in 44,1. Tutto sommato una frazione tranquilla in 15,6. Adesso però inizia nuovamente a pedalare Nando Font seguito sempre lungo la corda dal numero 2 Matisse Pons. Poi Lepo Ritri che ha i lati Paolo M. 800 in 59,1. 14,9 la frazione in curva con italiano che va dritto su Nando Font. La interpreta come aveva detto Federico Esposito all'attacco dal primo metro, 1,12,8 il chilometro. 13,6 di frazione con italiano che in liquida Nando Font a Paolo Lontano. Si sposta dalla corda Matisse Pons. Coda dritta italiano. Deve affrontare l'ultima curva. Fermo con le mani Federico Esposito seguito da Matisse Pons. Poi Nando Font in fase calante avvicinato da Paolo M. In mezzo la pista prova a scattare anche il numero 6 di Rodeni Ronco, ultimetrico italiano che viene sostenuto da Federico Esposito ma ha vantaggio importante su Matisse Pons. Italiano doveva essere. Italiano è stato vince alla grande su un ottimo Matisse Pons. Terza posizione per Rodeni Ronco. Io ho 1,56,1 sul mio cronometro, misura ufficiosa intorno all'1,12 e mezzo. Cavallo veramente che sembra rinato col training di Eric Bondo. Non che il primo non andasse ma sembra un altro cavallo a livello sia di carattere ma soprattutto di meccanica. veramente aveva qualche sbavatura. Erano abituati a vederlo insomma un po' in difficoltà di andatura. Strepitoso italiano. Molto bene Federico Esposito. Meric Bondo al treni. I colori della scuderia Ucci Riccitelli. Mericombia. Grazie.